Tanto magno per tutti ragazzi, qui TBlackGame e oggi sono qui per mostrarvi un easter egg nella mappa Nuketown 2025 per Call of Duty Black Ops 2. Voglio ringraziare Blue e Cloudark per la collaborazione nel video. Per fare questo easter egg dovrete semplicemente abbattere tutte le teste dei manichini che si trovano all'interno della mappa, lasciando stare quelli che si trovano all'esterno. Potete prendervi tutto il tempo che volete, non c'è nessun limite di tempo e una volta fatto ciò si attiverà un minigioco che vedrete tra poco quando ve lo mostrerò. Bene ragazzi, una volta fatto ciò dovrete ritornare al tabellone della mappa Nuketown dove c'è riportata anche la popolazione, ossia il numero di giocatori presenti in quel momento nella partita e premere il tasto per interagire su PlayStation Quadrato e su Xbox X. Una volta premuto si attiverà il minigioco che potete giocare direttamente sul tabellone della mappa. Quindi ragazzi, se il video vi è piaciuto vi invito a lasciare un mi piace, qui TBlackGame sul canale di Wanya e ricordate ragazzi, oppa Wanyam Style!